Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pesto di fagiolini. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Ingredienti sono fagiolini, pecorino, parmigiano, mandorle pelate, sale, olio, foglie di menta, foglie di basilico e acqua. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, posizionare il cestello con i fagiolini, chiudere con il coperchio e far cuocere per 30 minuti. Temperatura varoma, velocità 1. Svuotare il boccale e mettere da parte i fagiolini. Mettere nel boccale asciutto il parmigiano, il pecorino e tritare per 10 secondi a velocità 10. Aggiungere le mandorle e tritare per 10 secondi a velocità 10. Aspettare che i fagiolini si raffreddino completamente prima di proseguire la ricetta. Aggiungere adesso i fagiolini, il basilico, la menta, il sale, aggiungere l'olio ed azionare il bimbi per 30 secondi a velocità 6. Aggiungere il bimbi per 10 secondi a velocità 7. Aggiungere il bimbi per 10 secondi a velocità 7. Trasferire in un contenitore. Pesto di fagiolini, ideale per condire la pasta o guarnire i crostini. Si conserva in frigo per 7 giorni ricoperto con un filo d'olio. Grazie e alla prossima ricetta! Ciao! Aggiungere il bimbi per 10 secondi a velocità 7. Aggiungere il bimbi per 10 secondi a velocità 7. Grazie a tutti.